Il messaggero E poi il resto del carlino Giornale Ridio Casal Pusterlengo 24 sera La casalinga Teresa U accortasi che il marito Properzio H La tradiva con una certa amica Veronica F Lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato Minacciandola di morte Da testimonianze finora raccolte Risulta che il marito infedele si giustificava Presse a poco così Teresa ti prego Non scherzare col fucile Per la rabbia la tua bile può scoppiare Teresa ti prego Io non sono certo un vile Ma se tocchi quel fucile Può sparare E' stata una follia L'ho incontrata per la via Disse Vieni a casa mia Cosa mai potevo fare Un bacio domandato Te lo giuro Ho rifiutato Ed abbiamo poi parlato Pensa un po' Sempre di te Lucia Perciò Teresa Ti prego Non scherzare col fucile Far così non è gentile Ma lascia andare No, Teresa No, Teresa Dai Non mi smarare Non mi smarare Non mi smarare Per perdere Ah, no, Teresa Tenga mi occhi Prego Non smarare Grazie a tutti.